Veniamo da qualche partita difficile dove abbiamo fatto un cambio di allenatore, quindi era importante per noi fare una prestazione, l'abbiamo fatto e come l'hai detto prima, io l'ho pensato anche prima, che quando ero qua l'anno scorso parlavamo di una grande impresa, però è chiaro che abbiamo subito molto di più e oggi era una partita magari più divertente dove noi abbiamo fatto bene la fase offensive-defensive, però usciamo di qua con zero punti, però con la consapevolezza che possiamo, se giochiamo così, fare un problema. E' un buon fin di campionato. C'è qualche rimpianto però, visto come avete giocato, è stata una bella Udinese. Sì, è chiaro, è un rimpianto perché quando si esce con zero punti è sempre difficile, soprattutto che noi abbiamo per adesso una classifica un po' brutta, quindi sì, è un po' ramarico, però era importante per noi darci consapevolezza di quello che possiamo fare e come ho detto prima non giocheremo ogni sabato contro la Juventus, quindi le partite, se mettiamo questa intensità e questo gioco sull'anno, le prossime gare possiamo fare dei punti importanti. Ecco, volevo chiederti quanto c'è di Del Neri in questo nuovo atteggiamento, eravate più alti, forse anche più offensivi, se grande parte di questo cambiamento è merito del mister. E poi ti chiedo se avete anche un po' umanizzato la Juventus perché siete arrivati qua a giocare una partita mentre moltissime squadre vengono qua e provano a resistere il più possibile, oggi lo avete messo in imbarazzo in alcune occasioni. No, ma ha grandissimo merito il mister perché da quando è arrivato subito ha voluto una squadra con tanta intensità che riesce ad alternare bene la fase offensiva e difensiva, però recuperando palla più alti. Lo sta facendo bene, adesso non dobbiamo farlo solo su una partita e chiaramente il mister ci tenerà per farci tanto tempo, anche secondo me fisicamente abbiamo cresciuto tanto con queste due settimane di lavoro che era un lavoro molto diverso, molto più sull'intensità e abbiamo riuscito a farlo, adesso sappiamo la strada per far bene. Grazie.